Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa settima puntata di Teenage Kicks. Questa sera avrò con me ospite un figlio dei fiori venuto direttamente dagli anni 60. Sono proprio io. Anzi dal 69 che è l'anno di cui parleremo di più quest'anno, quest'anno questa puntata. Andre Press. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie Ale, grazie mille, grazie Ale per l'invito. Come è stato questo viaggio spazio-temporale per venire qua? Mistico, decisamente mistico. È stato emozionante, mistico e gasante, non so come dire. Cioè per dire che adesso sono gasato per questa puntata, quindi sì, sono bello carico. Ok, ok. Perché sei qua e perché? Perché l'idea, l'idea della puntata di oggi che è partita da te. Eh no, sì, nel senso ho sempre apprezzato i dischi che porti e comunque la musica che ami e secondo me avevo intuito che si poteva fare un qualcosa sui Beatles perché comunque immagino che anche tu li apprezzi. Sì, sì, sì. Io guarda non ho dubbi sulla sfida a Beatles-RolliStone. Grazie, grazie. Sono contento. Non mi sfiora neanche minimamente il dubbio. Esatto, stessa cosa per me, non per scrittare i RolliStone, assolutamente, ma sui due. È un po' lo stesso discorso che vale per me per Messi-Ronaldo, per capirci. Però sì, sono gasatissimo, sono molto contento di fare una puntata solo sui Beatles che stranamente Qualpertino non avevo mai fatto finora a memoria, non credo averlo mai fatto ed è un'emozione forte per me ma perché nonostante la mia giovine età sono cresciuto con i Beatles per logicamente mio padre e mia madre che mi hanno cresciuto con la loro musica e con i loro dischi che ho portato qua i vinili che appunto sono di mio padre, non originali ma ristampe comunque degli anni 70 e tanto non li vendo, quindi non mi interessano. Proprio sono tutti i miei e gelosamente miei. Che oggi tra le altre cose c'è un po' un revenge, un ribaltamento perché io ho un disco e lui c'è a 100 quindi di solito è il contrario e invece questa volta... È la prima volta che ci siamo conosciuti con le maglie, ti ricordi che sono arrivato con 20.000 maglie Io sono una persona, come si chiamano quelli che conservano tanti oggetti? C'è la parola, adesso non mi viene in mente Sì, tipo compulsivo qualcosa Sì, io conservo un sacco di oggettistica, mi piace un sacco il collezionismo e poi ho avuto la fortuna di avere tutti questi vinili di abito a casa e quindi li ho portati E ti ho superato È stata una fortuna anche per me, se no la puntata veniva malissimo Sì, che poi non parleremo logicamente solo di questi ma anche del documentario che è uscito recentemente su Disney+, su Get Back, sull'ultimo album e l'ultima esibizione insieme dei Beatles Devo dire che però tu hai poche cose ma di qualità perché qua non voglio spoilerare niente ma in cima alla pila qua c'è una perla La genesi di tutto questo perché tutto questo è stato enato dal fatto che un giorno Andre, non so quando ci siamo incrociati Noi ci siamo conosciuti alla diretta sulle maglie No ma l'ultima volta ci siamo incrociati qua e tu mi hai dato questa idea però non mi ricordo Forse un paio di settimane fa era Esatto Qua fuori eravamo prima di una puntata credo No ecco mi è venuto in mente prima della riunione Ah quando ci siamo riuniti esatto È vero è vero Andrea mi avevi detto se avevo visto e se mi era piaciuto il documentario dei Beatles A parte che mi ha salvato perché era nell'ennesima quarantena Me lo sono riuscito a vedere tutto in quanto è anche molto lungo Eh sì sono sei ore totali se non sbaglio Diviso su tre puntate Tre puntate da due ore quindi sì Però come ti avevo forse già detto ai tempi forse prima che lo vedessi Secondo me sono comunque sei ore paradossalmente scorrevoli Nel senso sono anche da tenere tipo in sottofondo Perché comunque ci sono tante parti dove provano e riprovano i brani E in questa maniera paradossalmente te li fanno anche entrare in testa Ed è però secondo me molto scorrevole molto leggero come contenuto Poi mi direi te bene Sì allora diciamo che il mio grosso deficit ormai lo sapete all'inglese Quindi io devo star lì a guardarmi i sottotitoli Mentre tutti voi invece No in realtà credo di averlo visto anche io con i sottotitoli Ma perché l'ho visto appunto visto che anche loro sono appassionati insieme ai miei genitori Ok E quindi loro sanno bene l'inglese guardano più serie di me Loro guardano anche le serie tv in norvegese Però lì logicamente i sottotitoli servono Però è stato Però ti chiedo adesso ti faccio una domanda che non c'entra niente E io se adesso la puntata si fa serie mi levo questo perché inizia a pizzichettare Ah ritorni l'Andre Press del 2023 Sullillo Eccomi qua Sei ritornato Allora No ti chiedevo una cosa una curiosità Essendo che loro erano di Liverpool e erano anche di origini irlandesi L'accento era capibile o hai fatto difficoltà Hai avuto difficoltà come No vabbè io personalmente Vabbè io l'inglese non per fare il figo ma lo so molto molto bene E tra l'altro so molto bene anche capire e comprendere l'irlandese Perché ho studiato all'estero e alcune delle mie migliori amiche sono irlandesi Per di più irlandesi del nord che è ancora più incomprensibile Ok quindi proprio No si è davvero È come se hai imparato il bergamasco È davvero un'altra lingua cioè pronunce completamente diverse Però devo dire che secondo me il loro accento specialmente quello che si vede e si sente nella serie Nel documentario sono dei Beatles a fine carriera Cioè alla fine del loro ciclo Sono i Beatles che hanno avuto una rilevanza mediatica mondiale E anche hanno girato il mondo in largo e lungo che secondo me consapevoli di questo Anche si sono ritrovati un po' ad aggiustare la loro lingua nel corso del tempo Anche fra di loro poi probabilmente magari fra John e Paul che si conoscono da bambini Avranno avuto un linguaggio tutto loro ma forse il loro era più un linguaggio non parlato Guarda ti posso dire anticipo una cosa di cui volevo parlare La cosa più bella secondo me di questo documentario Visto che tu hai detto John e Paul si conoscevano da bambini È un po' l'umanizzazione che ha dato a questi personaggi Perché noi ce li immaginiamo sempre come dei grandi intellettuali Della gente che parla solo di cose E invece in realtà erano come noi, erano dei cazzoni Cioè comunque erano ragazzi di neanche trentenni Avevano 26 anni Io guarda, cioè avevano la mia età Posso dire una cosa? Cioè non ti impressiona il fatto che loro a 26 anni avevano già finito la carriera Avevano fatto non so quanti Non ti senti un po' un fallimento Amici cosa vuoi che sei arrivata dal nulla così Dai dici un po' te di Beatles Prima dell'inizio della puntata ti fa Ma io mi sto insultando, io sto insultando te Ah ok ok grazie Alice Ti senti un fallimento che all'età dei Beatles non hai fatto niente No sai io, adesso piccolo esclusso Sai quando mi rendo conto che sto invecchiando Io mi baso la mia vita, i miei anni di vita In base alle carriere dei calciatori Cioè io in questo momento sono in teoria Dovrei essere nel pieno della mia carriera da calciatore 26, adesso mi faccio 27 E quindi quando inizierò a avere più di 30 anni così dico Eh però sono una fine carriera Così devo pensare al ritiro Invece no Pensa come mi sento io Infatti per quello spero che Ibra vada avanti Ah esatto Questo weekend ha giocato Marchetti il portiere Ha giocato nello Spezia un over 40 Quindi c'è ancora speranza No però è vero Molti artisti vivono il top della loro carriera Tra i 20 e i 30 Chi qualche anno in più Chi qualche anno in meno Poi ci sono logicamente quelli fuori dal tempo Che hanno carriere lunghissime Lo stesso Paul McCartney è arrivato a 70-80 anni Adesso Però la creatività secondo me ce l'ha in quegli anni lì Dai Probabilmente si è anche un'occasione per sperimentare tante cose diverse Cioè abbiamo visto poi i Beatles nello specifico sono stati i più grandi secondo me a fare questa cosa qua Perché i Beatles che sentiamo all'inizio degli anni 60 I Beatles di Let It Be del documentario così Sembrano quasi due artisti Cioè due band completamente diverse Ma anche nel corso degli anni Viste anche tutte le esperienze che hanno vissuto nella loro vita Il viaggio in India e tutto il resto Paul McCartney morto e sostituito Perché tanti dicono che sia stato quello a fare il Ti svelerò un segreto Che una domanda che non mi hai fatto ma te lo dico Come mai ti piacciono i Beatles? Come sono nati i Beatles? Grazie proprio perché No scherzo No però Perché No perché la ritingo una domanda talmente ovvia Perché ti piacciono i Beatles? E lo so però uno A di cercare il ricordo Io logicamente ci sono nato e cresciuto ascoltando loro Ma mi sono veramente appassionato ai Beatles Attraverso questo Attraverso le leggende metropolitane che c'erano intorno Al fatto che Paul fosse vivo o no Perché io così ho iniziato Io sono riuscito a queste Andavo online Mi cercavo tutte queste cose qui Perché avevo letto Non mi ricordo dove Questa cosa qua Allora ho iniziato a spulciare Spulciare E da lì ho iniziato a ascoltarli assolutamente Ero un ragazzino Avrò avuto 13-14 anni Da lì Basta Allora io ho iniziato una canzone dopo l'altra Fino a questo Però è molto interessante perché sia Se vuoi dopo quando Spulciando gli album Quando andiamo su Abbey Road Ci sono delle chicche interessanti Anche sotto quel punto di vista Lo so Lo so Molto molto interessante Ma anche Sgt Pepper Anche in alcune canzoni Ma infatti sai una cosa Ti dirò Tu mi hai detto La cosa Perché ti piacciono i Beatles Io di tanti Quasi tutte le band che ascolto Riesco a ricordarmi Il primo momento In cui io Ho incrociato il loro cammino Dei Beatles È una cosa talmente Si sono sempre stati Cioè è come dire Quando hai mangiato la prima volta la pasta Boh Bella domanda questa Quando è che è stata la prima volta Che ho mangiato la pasta Cioè Dimmi subito la chicca che ho portato Vai Che è questa Che è il L'EP di Eijud Revolver Revolver lato B In versione giapponese Che gentilmente Mi ha portato il mio amico Kasiragi Che è andato in viaggio di nozze In Giappone E mi ha portato Questo Questa bellissima chicca Veramente E Cioè nel senso È La cover in Giapponesi Immagino che comunque Le canzoni Sì le canzoni sono in inglese Però sai Noi adesso Viviamo in un mondo Completamente globalizzato Soprattutto negli ultimi 10-20 anni Sempre di più Qua parliamo di una band Che negli anni 60 Si è davvero girata Tutto il mondo E ha riempito stadi In tutto il mondo Io qua tra l'altro Poi dopo lo recupero È quello in Italia Ho un live esatto Che è stato fatto Al Vigorelli a Milano Di cui mio padre Me ne parla sempre Che è stato un grande E ti faccio anche uno spoiler giù Ho visto prima Che c'è un libro Proprio su quel concerto Su quel concerto Eh sì Quindi se volete approfondire È stato iconico È stata l'unica volta Che sono venuti in Italia Perché poi logicamente Magari in Giappone ci sono andati Adesso non so quando Però Il fatto che comunque Siano degli artisti britannici E non in molti lo sanno Per il grandissimo Enorme successo Che hanno avuto in Nord America Noi logicamente Magari le nuove generazioni Parlo magari di Alice La così è Pensano ai One Direction Magari I One Direction Che sono anche loro Ma cosa vuoi? È vero però A te che sei una Directioner Ma cosa vuoi? Dai dimmi una canzone di One Direction Se sei così una Directioner Silenzio Però effettivamente Sono stati Prima del tempo Cioè prima di tutti Quelli che sono Hanno davvero Ha avuto un successo mondiale Quello secondo me Lo testimonio Forse prima ancora Forse è stato Elvis Forse l'unico Però veniva dagli Stati Uniti No sì Veniva dagli Stati Uniti Però secondo me Ah sì Cioè Elvis Ha portato la cultura Cioè però forse Elvis Era più legato Proprio alla sua immagine Di belloccio Sì 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 Così Esatto Ed è proprio quello discorso Guardiamoli qua Sì non si può dire Erano dei bellocci Non erano dei bellocci Cioè loro non hanno Eppure facevano impazzire chiunque Cioè se si guardano i live Delle loro esibizioni Da inizio carriere Gli anni sessanta La folla Delirava Le donne Che lanciavano I reggisenghi Sul palco Cioè era Erano delle scene Mai viste Mai viste prima Se non forse con Elvis Ma infatti loro Avevano smesso Proprio di fare concerti Proprio per il motivo Che non riusci Dicevano Che non riuscivano Neanche a sentire La loro musica Perché era sovrastata Dalle urla Delle persone Eh già E quindi per questo motivo Loro decisero Di non fare più live Esatto E per sicurezza L'ultimo Lo fecero in cima In un palazzo Della serie Lontano dal mondo E per quello Proprio è molto importante Questo singolo Di Ejud Perché proprio mentre Loro stavano Registrando il video Di Ejud Che decisero Un vinile Di tempo Ironicamente La città E se lo sapevi Artisti Per dare un contenuto Per dare un messaggio Per dare un messaggio Per dare un'emozione E chi lo fa Palesemente Per un ritorno economico Questo mi dispiace Ma guarda Anticipo Anche un'altra cosa Cioè Una cosa che Guardando il documentario Poi spieghiamo Questo documentario Dove è nato Continua di pagare Una cosa bella Del documentario Che mi ha impressionato Era quando i Beatles Appunto si Si recavano Negli studi Della Apple Che era la loro Casa discografica Creata da loro Che praticamente C'erano sempre Un due Tre fan Che le aspettavano Ma le aspettavano Che erano quasi intimorite Cioè Se succedesse adesso Assalto Cioè Se c'era lì C'egli saltava in braccio Se lo toccava Se lo baciava Lì invece Proprio quasi Scusa Ti posso parlare Cioè Sono anche gli inglesi Che sono diversi Ah dici Gli inglesi hanno modi Secondo me sì Un po' sì E poi erano altri tempi Perché cioè Penso che se Cioè I Beatles Se avessero successo Adesso In questo momento Non potrebbero girare Per strada No 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 Probabilmente Sì E sarebbero Posso interrompervi un attimo Nel frattempo Io avevo chiesto Ai miei genitori Se si ricordassero Il momento in cui Io avevo iniziato A mangiare la pasta Perché è una domanda Che mi ha Particolarmente segnato Cosa ti hanno detto? Molto presto Non mangiavi il latte Ora sappiamo Ah sei passata direttamente Alla pasta Sappiamo quando è stata Svezzata Alice Esatto Rigorosamente in bianco Non l'ha mai mangiata Col pomodoro Alice Giusto? Esatto Non è vero L'ho mangiata col pomodoro Sara Una volta nella vita Sara non lo mangia il pomodoro No? Eh vabbè Ognuno ha le sue Scusate questa Interruttione E secondo me invece Potrebbero girare oggi Perché molti famosi Tipo Harry Styles Gira per strada Ma guarda Ti racconto questa roba Che mi aveva fatto straridere Quest'estate Una ragazza A New York Si era fatta un selfie E successivamente Si accorta Che dietro di lei C'era Paul McCartney Che stava camminando Eh vedi Assurdo Beh si Loro Ma non sono più Cioè Come Justin Tim Beh a parte che ne sono rimasti due Backstreet Boys Vabbè Backstreet Boys Chi li sente più Sì no Diciamo che sono Più difficilmente riconoscibili Per chi Non li conosce No sai cosa Cioè se vedessi Paul McCartney in strada Probabilmente piangerei Dalla gioia Tipo Se mi chiede Sai la solita domanda Che ti dicono Una persona Al mondo Con cui vorresti Fare una mangiata Mangiare fuori Io ne dico Sempre o uno o l'altro O dico Paul McCartney O dico Renato Pozzetto Uno di questi due dico Pensa io direi Paul McCartney E Andre Press Perché se no Non riesco a parlare Con Paul McCartney Esatto esatto No comunque Sai cos'è il concetto lì Cioè che secondo me Loro girano così Magari anche Io ho sentito Che anche Los Angeles Non c'è questo culto di Eh ma sei circondato Quindi Bravo esatto Però se facciamo La puntata in radio Con Paul McCartney Devi chiudere le strade Perché Sì no Assolutamente Ed è molto divertente A tal proposito L'intervista fatta Da Paul McCartney Con James Corden Che fa il Late Night Show Bellissima Davvero bella Vi consiglio di andarla a vedere E fanno il Carpool Karaoke Non so se è presente il formato In cui si mette in macchina Ah ok A cantare insieme le canzoni James Corden È anche bravo a cantare Ha fatto questa esibizione Questa cosa con vari artisti Anche con gli Stacey One Direction E l'ha fatta anche con Paul A Liverpool In giro per le strade di Liverpool Sono andati a visitare La sua vecchia casa Dove si esibiva Fatto vedere tipo il bagno Dove registrava le canzoni Perché in bagno C'era una bella acustica E poi sono andati In questo locale A fare un'esibizione Così improvvisata Ed emicidiale Nel momento in cui iniziava a suonare Pian piano Si avvicinava la gente Oddio c'è Paul Oddio c'è Paul Il caos Il delirio in quel locale Dopo pochi minuti L'hanno dovuto chiamare polizia Sicurezza E andare via Bellissima l'intervista E andatevela a vedere Tra l'altro Svela anche un paio di chicchi Interessanti Su alcune delle sue canzoni Tipo Penny Lane La Via I Strawberry Fields Che sono i campi di fragole Che c'erano dietro a casa sua E di John Al quale si sono ispirati Per la canzone Quindi È davvero davvero bella Però siamo più belli Adesso che ne parliamo E niente Quindi Stavo dicendo Documentare Esatto Che McCartney Ha avuto l'idea Dice Voglio ritornare a suonare live Voglio ritornare a fare qualcosa Con la gente E si decise di fare uno spettacolo tv Che avrebbe dovuto suonare Dove sarebbe suonato Material inedito E registrato In pochi giorni Sostanzialmente E il progetto fallisce Eh sì Falli miseramente Ma perché Non c'erano le tempistiche Ma in realtà Il grande problema Non era quello Secondo me Perché non erano le tempistiche Era La volontà Di farlo Esatto Non si capiva cosa volessero fare Esatto Esatto Non si capiva Non c'era unione di intenti Sicuramente L'intento principale di Paul Era quello Però capito anche lui Che gli altri Non erano intenzionati A fare un'esibizione Di questo tipo Si stava cercando Una quadra Capire un attimo Cosa facciamo Cosa non facciamo Molliamo tutto Perché l'idea anche principale Era quella Dice Basta Non facciamo più niente Facciamo questa cosa qua Registriamo un album Magari così è E poi Quindi Logicamente tu hai spiegato Il documentario Basato su questo Faccio radio Intenzione iniziale Di Paul Di fare questo documento Di questa esibizione Dal vivo Che è partita quindi Con la registrazione Di una serie di brani Poi la registrazione Si sposta Appunto Agli Apple Studios E mentre la registrazione Avviene Dei vari brani I brani più iconici Dell'ultimo album Let it be Tra cui appunto La stessa let it be E Poi dopo È stata tramutata In un Facciamola sì Un'esibizione Ma rendiamola Una cosa nostra E quindi la facciamo In cima al palazzo Vi ho spoilerato il finale Ma poi sapete cosa succede Che in tutto questo Alla fine A un certo punto Anche George Harrison Abbandona la band Eh sì Perché è questo il discorso Cioè Guardando questo documentario Secondo me Si Sfatano anche Tutta una serie di miti Che si erano Creati Nel corso degli anni Sul Perché si sono sciolti I Beatles Perché dopo tutto Questa è stata È stato L'ultimo album Dei Beatles È stata L'ultima esibizione E di conseguenza Anche l'ultima esibizione Dal vivo Dei Beatles Nel 1969 E quindi ci si chiedeva Ma allora perché Come mai si è chiuso così E secondo me Questo documentario Spiega tanto E appunto Spatta il mito Secondo me Del forte contrasto Che si diceva Che i Beatles Si erano sciolti Per Paul E John Che hanno litigato Fra di loro Per Yoko Ono Invece secondo me Yoko Ono In tutto il film Se ne sta seduta Su una sedia A fare la lana Sì esatto Cioè nel senso Poi sicuramente Si può ragionare Sul fatto che Yoko Ono Abbia Influito Sulla personalità E sulle scelte Di carriera Di John Lennon E che quindi Questo possa avere Indirettamente Condizionato Il proseguio Della carriera Dei Beatles Come un gruppo Ma io Vedo un grosso Responsabile Ma c'è che Non è un responsabile Di un fallo Cioè Delle band Sono destinate A durare 50 anni Ma Cioè io Preferisco i Beatles Così Piuttosto Che dei Beatles Che magari Che avessero continuato Per 50 anni Ma che i 40 Anni successivi Si sarebbero Ridigolizzati Con delle canzoni Obrobriosi Invece Credo che La loro bellezza E la loro magia Sia stato proprio Nell'essere racchiuso In così breve Arco temporale Ma secondo me Poi la cosa difficile Tenere insieme Delle forti personalità Con tante idee Così La cosa Io sono contento Perché secondo me Siamo stata un po' Riabilitata Da questo Da questo documentario La figura di McCartney Perché Per anni Era stato detto Era un tiranno Era perché Tutti sono un po' Più proleano Io sono un po' Un McCartney Io sono super Paul McCartney Da piccolo Ero più John Lennon Per l'immaginario Di pace Che era legato Alla sua figura Guarda Poi ti dirò Una cosa Secondo me Il disco più bello Solista Che hanno fatto loro È quello di George Harrison O il film Allora Perché gli altri Hanno Hanno dei dischi Dove dentro C'hanno delle canzoni belle Ma quello è tutto bello Quello veramente È stupendo Anche se credo che Forse a livello Di singoli Vabbè io Per gusto personale Di George Harrison Non ne ho apprezzati Tantissimi Forse di Paul McCartney Tipo Paul McCartney E i Winx Ne hanno fatto Un po' Un po' Di canzoni belle Vabbè poi c'è Di George Harrison My Sweet Lord Che è Esatto Ma ne sono tanti Di singoli E poi logicamente Anche John Lennon Per quella sua Breve carriera Prima della sua morte Nell'ottanta Ha avuto comunque Probabilmente lui Ecco Secondo me Aveva Più cose da dire Forse Più che a livello sonoro Ma a livello Di comunicazione Aveva tanto di più Sotto quel punto di vista Ed era quello Secondo me La forza di Beatles L'unione E il fatto che poi Nel corso degli anni Grazie anche Ad alcune figure Una su tutti Quella di George Martin Che è stato Il loro produttore Fin dall'inizio La capacità di Unire fra di loro Dei talenti Così Grezzi E trasformarli In cristallini Valorizzando Le migliori doti Dei singoli Creando Un insieme Estraordinario Chi per la capacità Di scrittura Chi per le capacità Musicali Perché se parliamo Di George Harrison Stiamo parlando Di uno dei Chitarrissi migliori Della storia Sì che comunque Infatti Tra le altre cose Quando a lui È stato dato modo Di comporre Si è visto Il salto di qualità Quello che parlavamo All'inizio Che dicevi Sembra che ci sia stato A un certo punto Anche un cambio Di marcia Quello ha molto influenzato Quando lui è iniziato A diventare Anche lui autore Dei brani Sicuramente Si è alzato Il livello Io credo Che uno Adesso Non ti saprei dire Qual è la mia Canzone preferita De Debitos Ma è difficile Ce n'è una Per ogni occasione Sicuramente però Lì in alto Nella classifica C'è Something Che è stata Proprio Scritta Da George E tra l'altro Molto ironicamente Non so Sai George Harrison Eric Clapton La donna Che hanno avuto In comune Che è stata Prima Con George Harrison E poi dopo È stata Diventata la moglie Di Eric Clapton Che Ha È molto Nel 2000 Qualcosa È stata Fatta l'induzione Nella rock and roll All of fame Di George Harrison E ci sono Queste serie Di esibizioni Dal vivo Di Paul McCartney Insieme a Eric Clapton Insieme a Jeff Lynne De Yellow Insieme a Phil Collins Bellissime Bellissime esibizioni Ringo C'erano tutti E c'è Eric Clapton Che canta Something Che era una canzone Che George Harrison Aveva scritto Per A lei Che poi era stata Insieme a Eric Clapton Ironicamente No vabbè Scusate il decorso Però Guarda volevo dire Due cose Una agganciandomi A tutto quello Che abbiamo detto Sicuramente George Martin È stato importantissimo Perché Anche In tanti brani Scusate Per chi non lo sapesse George Martin Lo diciamo Era il produttore Dei Beatles Che ha scritturato Il loro primo Contratto discografico Dopo che loro Erano stati rifiutati Dalla Decca Mi sembra Si chiama La casa discografica Precedente E è stato Praticamente Con loro E li ha accompagnati In tutta la carriera E si vede molto Anche nel documentario La sua influenza Viene definito Viene definito Viene definito anche Il quinto Beatle Perché comunque Con degli artifici Lui che aveva Essendo tecnico Del suono Di produzione Ha fatto Dei brani Che Non sarebbero stati Non sarebbe stato Possibile Realizzarli Senza di lui Tra l'altro Visto che parliamo Di tecnici del suono E si vede anche Nel documentario Fra i tecnici Del suono Dei Beatles Degli ultimi album Che poi è stato Anche il tecnico Del suono Di tanti altri artisti Ha collaborato Anche con i Pink Floyd Nei loro brani Più celebri C'è Alan Parson Si esatto Era il mixer Del concerto Che hanno Che hanno fatto Proprio sul tetto Esatto E mio padre Che è un grande fan Di Alan Parson Ah veramente Quando c'era Il documentario C'è tipo Un momento Perché poi ogni volta Che appariva una persona Nuova veniva Scritto sotto Chi era Esatto E c'è stato tipo Due Due frame In sei ore Di documentario In cui si vede Alan Parson E mio padre Hai presente tipo Il meme di Leonardo DiCaprio Che fa E lui 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 Davanti alla televisione Era esattamente uguale Era No però si Si guarda Allora Introduco anche Un altro Un altro Personaggio Che c'è nel documentario Che è Phil Spector E lo introduco Per Mettere l'ennesima nota Diciamo Di Di dissidio Tra i Beatles Perché venne chiamato Phil Spector Che era un produttore famoso Per il suo muro del suono Che riusciva a creare Nelle canzoni E Il problema Che lui Tutti i brani Dei Beatles Li rielaborò E A un montón Diciamo Li rese un po' Più pomposi E questa roba Fece impazzire letteralmente McCartney Che decise addirittura Di Di rifare Di remixare L'album Infatti esiste un album Che si chiama Lady Beat Naked Dove viene tolta Tutta la parte Di Phil Spector Eh Qua Qua c'è la tirannia Di Paul Che c'è qua Però sai che Negli ultimi anni Poi ammesso Che invece erano belle Erano belle anche quelle Però a me Poi anche lì L'impressione Che mi dà Nel sentire Le registrazioni Che vengono fatte Durante Che si vedono Nel documentario Poi vai a sentire L'album E Vedi proprio Che sono esattamente Quelle registrazioni lì Con tanto di A me viene in mente Quella di Get Back Che ci sono stati Tipo 20.000 take Che hanno fatto E continuano a riprovarlo Così è E ci sente pure La parte parlata prima Che è esattamente Quella che Vedi per la prima volta Perché poi Questo documentario Sono 6 ore di documentario Ma sono tipo 60 passa ore Sono giorni e giorni Di riprese Completamente 50 ore di girato Completamente inedite Cioè Noi li abbiamo visti adesso Praticamente 60 anni dopo E Nessuno Li aveva mai viste Cioè A parte magari Alcuni degli addetti ai lavori Che li avevano fatti Sì c'era stato un film Ah sì Quello che mi dicevi Documentario Negli anni 70 Subito dopo Esce questo documentario Che vince anche il premio Oscar Ovviamente Come miglior colonna sonora Però la cosa bella Che ha fatto Peter Jackson Che è quello che adesso Ne parliamo Che è quello che ha girato Il Non è che ha girato Ha ripreso Quelle immagini E li ha ridato vita Ha ripreso Ha ripreso Diciamo il Tutte quelle 50 ore Se hai guardato Non posso immaginare Eh sì 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 Ma è un problema di molti Adesso anche quelli vlogger Che fanno i video su YouTube Che si ritrovano a dover fare Un video di 4 minuti Ma hanno girato 10 ore di video Quindi devono Sì no ma io l'ho visto Anche in programmi musicali Ancora peggio Sì 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 Forse vabbè comunque In programmi musicali In programmi televisivi Barra musicali Che poi tra l'altro Peter Io stavo spulciando Perché ero curioso Di sapere cos'altro avesse fatto Io sono un pirla Perché lui ha fatto Il Signore di Aneli Esatto esatto Ha fatto anche Ne me ne ero mai Ha fatto anche King Kong Ah anche King Kong Sì 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 Pensate Grande Peter E quindi lui niente Ha ripreso queste Queste immagini E le ha riguardate tutte Le ha rimontate Dando una cosa Molto narrativa Cronologica Cioè sembra veramente Di guardare una storia Cioè una storia Pre come è che si dice Pre sitcom Sì cioè nel senso Che era già stata Come è che si dice Che c'è un autore Che dice ai singoli Fai questo Ah in quel senso Cioè lui è riuscito a montarla Dando proprio uno stile narrativo A tutto questo È vero è vero E una cosa secondo me Bella che lui ha fatto Ha escluso quasi il 90% Delle immagini Che sono nel vecchio documentario Ma per un motivo Molto semplice Perché lui non voleva Che Voleva che diventassero Complementari Non voleva che sparisse Quello vecchio E quindi lui ha deciso Di anche Se ci sono anche Dei momenti simili Perché ovviamente Ha dovuto metterli Siccome giravano Con due telecamere Lui ha scelto sempre L'inquadratura Diversa Rispetto a quello del film Insomma questa è una cosa Di rispetto Assolutamente Nei confronti Di chi aveva fatto Il vecchio film Che è E tra le altre cose Ma poi anche perché Comunque una persona Si aspetta di vedere Un qualcosa di inedito Qualcosa di nuovo Quindi magari a volte Basta anche L'inquadratura diversa Per dare quell'impressione lì Anche se magari È una ripresa Che era già stata fatta vedere Però è Assolutamente vero C'è dell'inedito Perché è la cosa Forse Un po' Diciamo Un po' più scadente Di Let It Be Quello Il vecchio documentario Era che Venivano tagliate Tutte le parti controverse Quindi guardi quello Tipo Quando George Harrison Se ne va Non c'è E quindi Lui invece L'ha voluto E lì Vabbè Poi era Di che hanno detto Che era del 70 Del 70 Sì Forse lì si vuole All'interno Scusami L'ho messo In primo piano Visto che ne stiamo parlando E proprio parlando Del disco Una cosa bella Che dicevi te prima Bellissimo Che ad esempio Di Gitback Si vede Quando proprio Paul La prima volta Che gli viene Proprio l'idea Incredibile Cioè quando Io te lo giuro Quando l'ho sentito E mi sono reso conto Che stava suonando quello Mi sono venuti i brividi Cioè perché ho detto Cioè è qua che è nato In questo momento che è nato Ma anche ad esempio Non so se sai La storia di Let It Be La storia di Let It Be Si che è dedicata alla madre Non solo è dedicata alla madre Lui ha detto Anche nel Ripetuto anche Nell'intervista di James Corden Di cui ti parlavo prima Che lui una notte Paul McCartney ha perso la madre Per chi non lo sapesse Molto giovane Quando era Quando era un ragazzino E quindi Era molto legato Alla figura materna E lui una notte Sogna la madre Sogna la madre La madre gli dice Cioè lui in sogno La madre si avvicina a lui E l'unica cosa che gli dice È proprio Let It Be Lascia Lascia scorrere Lascia scorrere Tant'è che Il test inizia When I find myself In times of trouble Mother Mary comes to me Quando mi trovo In una situazione di difficoltà Mia mamma Mary Viene da me Da me Speaking words of wisdom Dicendo parole Di saggezza Sagge parole Let It Be Quindi è un altro Secondo me Ti fa capire anche La profondità Che dai a un testo E all'interpretazione Anche di un testo Quando Il significato che c'è dietro È questo Sì sì Ma guarda Si capisce già Che è una cosa profonda Senza neanche Sapere l'inglese Come Perché come dici Tra l'interpretazione È molto È molto sentita Si vede E Cosa ti volevo dire Aspetta non mi ricordo più Ah Invece Get Back È stato cambiato il testo Non so se lo sai Perché inizialmente Paul voleva fare una canzone Che prendeva per il culo I razzisti Diciamo Solo che Nel suo farlo ironico Poteva lasciare Interpretazioni Invece Beatles Razzisti E invece Quindi si decise Sì che parla tipo di Sweet Loretta Martin Che aveva una casa in Texas Si è trasferita in California Sì però prima si parlava di Inizialmente Parlava di Pakistani Cioè non c'erano Gli americani Ah no sì è vero E quindi Era una cosa ironica Però siccome Non Non lasciava Lasciava interpretazioni Abbastanza Però tra l'altro Io non so Vorrei fare sentire Tanto non è la canzone Quindi non è All'inizio di Di Get Back Che tra l'altro È l'ultima Get Back è proprio Get Back è l'ultima canzone di Beatles È quella che viene ripetuta Poi più volte Sul Sul Durante il concerto È quella che viene Esatto Viene rifatta Rifatta Due o tre volte Però la versione ufficiale Quella che conosciamo tutti Che è stata anche Rimasterizzata Il 2009 Inizia con Non so se ci hai mai fatto caso Con un estratto di John All'inizio Che parla Che dice Sweet Loretta Martin Pensa di essere una donna Invece una padella Is a frying pan Vediamo se lo si sente qua Vediamo se lo sente Rosetta Dice But she was a frying pan È bellissima Secondo me Scusa Mi affascinano un sacco Questi dettagli qua Perché Poi dopo li rivedi Nella serie Cioè nel documentario Sì perché Li rivedi Ecco Esatto Anche perché Get Back Forse è quella che nel documentario Si vede Di più in assoluto Cioè che viene provata Di più in assoluto Perché c'erano tante Indecisioni Su come partire Cioè avevano un riff Di chitarra Però non sapevano cosa dire Quindi sono lì Pum a cercare il test Ma infatti è bello proprio quello Vedere Esatto Il processo Togli Metti È fighissimo E tra le altre cose Abbiamo parlato di tutti Anzi volevo parlare di una cosa Vai Visto che abbiamo parlato di Yoko Ono Delle amanti di Giorget Eccetera eccetera Una figura che mi è sempre piaciuta All'interno di Beatles Che purtroppo è stata Abbastanza anche sfortunata Perché è morta Giovane È Linda McCartney Che qua Lei era una fotografa Tra le altre cose qua C'è Nella foto di copertina Di questo libro Fotografico appunto Di Linda McCartney C'è il buon Paul Qua dietro E i loro figli Tra cui Stella McCartney Che poi diventerà una nota Stilista Una nota stilista Che forse anche Alice Qua riusciamo a recuperarla Su Stella McCartney Non ti affasso Eccola 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 Stato buono 001 Ci scrive salve Salve Stato buono Piacere Facci sapere qual è la tua canzone preferita di Beatles È vero Provaci te Che noi non ci riusciamo a trovarla È molto bello nel documentario Secondo me la figura di Linda Perché si avvicina Quasi con timidezza Con pacatezza È una pacatezza comunque molto simile A quella di Paul E la vedi Intenta In dietro le quinte Scatta le foto Che poi alcune delle foto Vengono anche mostrate Sì ci sono anche delle foto Dentro al libro Infatti Che sono secondo me Danno un'atmosfera davvero magica A tutto l'ambiente C'è proprio un ambiente di creativi C'è l'artista C'è il musicista C'è la fotografa Poi c'è Yokono Ma infatti sai cosa Perché uno poi si Si vuole rivedere un po' Negli artisti Per quello io negli anni Sono diventato McCartiano Perché McCartney Cosa fa? Prende E se ne va a vivere Nella sua farm In Scozia In mezzo alle pecore Con sua moglie e sui figli E io Vorrei fare così nella vita Sì Invece Paradossalmente John Lennon Sotto i riflettori Attico a New York Te lo ho detto Secondo me Su quello Su quel John Lennon lì C'è tanto Yokono Secondo me Su quello Beatlesiano Meno Vuole intervenire Prego Stat Buono 001 Dice Don't let me down Credo È la sua canzone Guarda È anche È una delle mie preferite Proprio per L'interpretazione Che c'è nel documentario Don't let me down Dell'ultimo Cioè di Let me Ti posso dire Don't let me down And get back Ho rivalutato tanto Cioè che Alcune canzoni appunto Le ho sentite E mi sono piaciuto Un sacco I've got a feeling Secondo me è bellissima Ma è quella che fa I've got a feeling Proprio quella Pensa che io Prima non l'ascoltavo Ironicamente io non l'ascoltavo Tanto questa canzone Perché sono talmente tante Le canzoni di Beatles Ogni tanto me la perdo Io conoscevo quella Dei Black Eyed Peas E cercavo quella Dei Black Eyed Peas E dicevo Mi scivendo i beat E faccio Che fai Sentire quella Dei Black Eyed Peas Adesso cerco Quella Esatto Ormai cerco solo questa Che secondo me È anche I'm in mine Secondo me è molto bella Che secondo me È una I've got a feeling Cioè proprio L'intento di Paul McCartney Cioè quella è proprio Rocker Sì Esatto È quello Che sicuramente Mi affascina tanto Tra l'altro Per rimanere in tema I documentari Di quello Che si è visto Di inedito Una cosa che mi è piaciuta Tantissimo del documentario Era Il Il momento Dell'arrivo in studio Arrivi in studio Cioè lì E si ricollega anche All'umanizzazione Che c'è delle loro figure Perché non è che Dici oddio Arrivano Scendono da un piedistallo Arrivano con un'astronave Arrivano lì Invece no Arrivano Bella Caffè Stanchi Perché hanno fatto Sera prima Così hanno bevuto Fino a tardi Tutti fusi Così è bella Come va Caffè Scherzano fra di loro E la prima cosa che fanno Non è tipo Ok va bene Mettiamoci al lavoro No Prendono chitarra E iniziano a improvvisare Fanno la canzone Dei Rolling Stones Fanno la canzone di Elvis Bob Dylan Fanno le canzoni di Bob Dylan Cioè nel senso È tutto così Meravigliosamente normale Mi verrebbe da dire Esatto esatto Ma infatti poi in questo Forse McCartney ne esce bene Perché comunque Si vede che è l'unico Che ha un po' Di interesse Che ha voglia Di tenere insieme tutto Gli altri sembrano Completamente Del È come quando Non so Sei a scuola E la maestra Non la segue nessuno Ecco Mi ha dato quell'impressione Sì Diciamo che Su tutti Vabbè io Ringo Non lo considero neanche Cioè Ringo Mi spezza Ringo sai chi è Te lo giuro Io non lo conoscevo Cioè lo seguo su Instagram Voi ragazzi seguite Ringo Starr su Instagram Mi spezza Non so se ti capita Vallo a seguire Fa schiattare Cioè mette tutte le robe Sembra mio nonno Col telefono È bellissimo Mette tutte le emoji Pace e amore Ogni messaggio così è Saluta È morto un suo amico musicista Così è Pace e amore Con i cuoricini Ma anche nella serie tv Mi spezza Ringo mi spezza È proprio un imbecille Ma nel senso buone del termine Cioè che fa lo stupido Durante le riprese Fa le facce Ma sai cosa mi fa morire Di Ringo Sembra È l'amico che tutti vorrebbero Quello che sta zitto Ride Fa ridere Basta Esatto Mi spezza Così è Paradossalmente Visto che negli anni Si è sempre pensato Che fosse stato L'incarinamento Del rapporto Fra Paul e John Ad aver portato All'ortura dei Beatles Invece secondo me È stato proprio La figura di George Lo testimonia Quello che si è visto Nel documentario Il fatto che lui Ha deciso di abbandonarsi Perché non si sentiva Forse libero Di esprimere Se stesso A livello creativo Completamente Perché C'era troppo feeling Tra gli altri due Molto probabilmente Forse sì Esatto Sicuramente quello Ma anche comunque E ci sta Lecita La volontà Di Comunque Dire un qualcosa Che sia completamente Tuo E che non sia Un messaggio Che magari a volte Si perde In mezzo A quello degli altri Perché se Ha l'occhio più attento Comunque uno che non lo sa Magari Ascolta Something Dei Beatles E dice Cavolo Che meraviglia Questa canzone È la mia preferita Bravissimi Beatles Però Non sa che La scrittura C'è dietro C'è dietro George Anche perché Le due figure Probabilmente Mediaticamente Di risalto Dei Beatles Sono sempre state Un po' John e Paul Inevitabilmente Poi anche Le loro rispettive Carriere da soliste Non hanno aiutato Cioè Non ha aiutato George Non ha aiutato Però sì Forse perché Magari era un po' Introverso Come personaggio Quindi ha risaltato Di meno Rispetto agli altri Ma io la vedo Un po' così Può darsi Può darsi Che sia così Io non Comunque Visto che non vorrei Parlare solo Del documentario E non voglio Lasciare qua Fino alle nove di sera Le ragazze Che se no Mi fanno fuori Ti volevo Ti volevo chiedere Di tirare fuori un disco Così ci leghiamo ancora E dopo li guardiamo Facciamo un giro Veloce di tutti Volevo vedere Abbey Road Perché è importante Volevo farti vedere Comunque Stat Buona 001 Dice che Su artista preferito Però è Michael Jackson Spiace A tal proposito Eccola Andre Madonna mia Sei un invitato Sei un ospite Guarda te Ma voglio dire una cosa No veramente Povero Ale Guarda ti sta per picchiare Ma secondo me Ma secondo me vogliono dire la stessa cosa Vediamo Prova a dirla a te E che hanno fatto una canzone insieme Grazie Letta lui Guarda te Comunque Paul McCartney Insieme a John Lennon Con Come si chiama No non l'ha capito Scusa Scusa Paul McCartney Ma distratto Alice Paul McCartney Insieme a Michael Jackson A Michael Jackson Come si chiama la canzone Eh non me la ricordo 666 Ah ok E invece Statbuano001 L'ha indovinato Pensavo stessimo parlando io E penso sia a lei Perché l'ho già incontrata oggi pomeriggio Si chiama Federica Ok ciao Federica E lei stavamo parlando di un'altra cosa Qua in chat Perché noi sai Confabuliamo sempre Ha detto 666 E pensavo fosse Di una roba prima Invece ha azzeccato il titolo È proprio Bellissima Forse Davvero Quando metti insieme Paul McCartney Michael Jackson Non può che uscire Qualcosa di buono Io perché ti ho chiesto Di tirar fuori questo disco Io ho una storia Rispetto a questo disco In particolare Però tu Vuoi vedere il retro Vuoi sapere No la cosa strana Di questo disco Che è stato registrato Dopo Let it be Però È uscito Prima Cioè Questo disco È stato registrato Dopo Let it be Ma è uscito Prima quello E poi questo Infatti Poi nel Nel Diciamo Nel 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 documentario Si sentono anche i brani Di questo disco qua Giusto Esatto Esatto Tra cui Il primo della side 2 Here Comes the Sun Che non Che ha fatto Ernison Tra l'altro Vedete Cioè A saperlo così è Here Comes the Sun Che Su questo Specifico Vinile Salta Cioè nel senso Questo qua è il vinile Di mio padre I anni 70 Io non posso ascoltare Il Comes the Sun Perché sa Cioè no Non è che tutto così è Però all'inizio Proprio all'inizio Inizio Inizio Tipo i primi Dopo la prima strofa Salta un battito E mi riprende dopo così E io una delle prime volte Che ho ascoltato questo vinile Ci sono rimasto Così ho detto Vabbè Sarà stato un errore Di quella volta lì Invece è sempre così Sempre così Ti dirò Ieri ho comprato dei dischi E oggi me li stavo ascoltando Prima di venire qua E ce n'era uno Che è la prima canzone Tutto un Cip 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 Eh capito Spiazze Spiazze un po' Quando è così Dimmi invece Mi dicevi Da cui Non so già cosa vuoi dire Ma te lo faccio dire a te Delle leggende Legate a Paul Della leggenda Legata a Paul Leggenda legata a Paul Per chi non lo sapesse Vabbè Sono girate negli anni Un sacco di leggende Sulla Presunta Sul fatto che Paul McCartney In realtà sia morto In un incidente stradale A metà della loro carriera E che Comunque prima Volevo Non volevo interrompervi prima Ma prima ho fatto una piccola ricerca Su wikipedia Su questa cosa qua Abbiamo degli aggiornamenti Quando volete me lo chiedete Io vi leggo No si va E' interessantissimo Il fatto che Proprio in questo In questa copertina qua Che è stata forse Una delle leggende più grandi Perché Si pensa appunto Che Paul McCartney Sia stato sostituito Da un sosia E che il sosia Sia quello presente In questa In questa copertina Copertina in cui Paul McCartney Dovrei ricordarmi tutte le cose E' l'unico scalzo Esatto E in più Da come sono vestiti I Beatles In questa copertina Con John al comando Vestito di bianco Come solitamente Si era vestiti Durante un corto funebre Quindi l'idea È quello che La copertina L'iconica copertina Di Abbey Road È il corteo funebre Sia il corteo funebre Che di Di Paul McCartney Questa è una Delle tante leggende Ce ne sono molte Anche legate All'album Stench and Pepper Che è lì in mezzo Adesso lo recupero Però È sicuramente Un'altra delle Delle cose Il fatto che ci sia Una macchina In mezzo alla strada Che sta arrivando Esattamente In direzione di Paul In direzione di Paul Quindi ci sono Tante piccole perle Il sosia più pagato Della storia Della storia Tra l'altro Dell'umanità Tutti al palo Stesso passo Tranne Paul Esatto Che ha la gamba Destra Davanti alla sinistra E ha una sigaretta Nella mano destra Mentre Paul McCartney E mancino Eh E la targa Ha la sigla LMW 28 IF Esatto Interpretabile come 28 se Cioè se Paul fosse ancora vivo Avrebbe 28 anni E pensa Dov'è che volevo leggere Tutti poi è stato smentito Il fatto che fosse morto Eccetera Però in realtà Un'ultima fonte di incertezza È arrivata dall'Italia Perché le analisi Del cranio e del bassista Effettuate da due esperti Inizialmente Tese alla definitiva Smentita Hanno confermato invece Divergenze Tra la curva mandibolare Padiglioni auricolari Denti e palato Ne ne è fatto prima E dopo il 66 Che l'hanno sospetto Esatto In cui infatti 28 anni Erano Esatto Gli anni che avrebbe avuto Su queste cose qua Io Magari è la volta buona Che Alice Si appassiona ai Vitos Perché io inizio Io te lo giuro Ho iniziato così Ci faremo la puntata Scomparsi Scomparsi A chi l'ha visto Rock e misteri Alice Dobbiamo fare Scomparsi Una canzone Molto bella Di Vitos Di un album Che a me non Cioè Di un genere così È I'm the world Che a me piace tantissimo E anche all'interno Di I'm the Anzi no I'm the world Perché sono tutti Sullo stesso No I'm the world Forse Magical Mystery Tour Che è l'unico Che non hai Però tira fuori St. John Pepper Che bella anche la copertina Ti racconto una cosa Sulla copertina Poi mentre Copertina fantastica Alla quale Alice se vuoi cercare Anche Delle cose divertenti Su questa copertina Relativa Alla scomparsa Di Paul Ce ne sono parecchie E mi sembra Però che sia Anche in qua I'm the world Adesso sto guardando Dietro Però ci sono i testi Io mi ricordo No Può darsi Che hai ragione Te I'm the world È una di quelle canzoni Che se ascoltate Al contrario Si sentono Dei messaggi Subliminali Relativi a Paul Tipo Paul We Mission Io non ci credo A queste cose E però poi Quando ascolti Quella canzone Al contrario E senti che Effettivamente Sono delle parole Che si capiscono Chiaramente Ma in realtà In realtà Facciamo la puntata Su queste cose Domani Just chatting Oddio Va bene Non so se sono pronto Psicologicamente No ma in realtà Sai cos'è Che comunque Loro Essendo dei cazzoni Come ho detto prima Quando si è Sviluppato questo Mito Ci giocavano sopra Ci hanno giocato sopra Non hanno fatto nulla Per cercare di E c'è un'altra canzone Invece a Day in the Life Dove l'inizio Della canzone Si parla di un incidente Stradale È vero Dove dice che La gente Si è avvicinata Alla macchina incidentata E tutti si sono accorti Di chi era Il corpo Privo di vita All'interno della macchina Era Paul McCartney Incredibile No si Sono Sono tante piccole cose Che messi insieme Aiutano anche a creare Questo immaginario Mistico Che c'è attorno a loro Di quella copertina La rifece poco dopo Frank Zappa Perché lui ce l'aveva su Perché diceva Comunque diceva Sì tutti dicono Che i Beatles Sono sperimentali Eccetera eccetera Ma Confronta a me Sono dei C'è solo dei Che in parte Ragione Perché Frank Zappa Forse addirittura C'è proprio Sperimentazione A livelli Proprio Quasi dell'inascoltabile Tra altre cose È un artista che amo E quindi lui Ha rifatto La stessa copertina Con lui E La sua band E altri personaggi Perché In copertina C'è Bobbina C'è Max Ci sono tutti Ce ne sono 20.000 C'è Stanley e Olio Ci sono È micidiale Sai io Per ricollegarmi Quello che è appena detto E anche per magari Non dilungarci troppo Io volevo Dire appunto Abbiamo qua Let it be Abbiamo Sergent Pepper Abbiamo Heavy Roll Io ti chiedo ancora Due album da far vedere Certo certo Ma io li tiro fuori Molto volentieri Però Intanto Velocemente Vi facciamo vedere L'U-White album Per un motivo Ben specifico Comunque Mentre cercate È quello del Vigorelli Stat Buono Fa notare che Anche Dangerous Di Michael Jackson Ci sono tanti misteri Come Copertina E anche Blood on the Dance Flow E io ho proposto Una puntata su Michael Jackson A questo punto Che abbiamo l'esperto Non sono un grande Conoscitore Abbiamo l'esperto Stat Buono No possiamo farla Tienilo te Ma tanti Ce ne sono veramente tante Si potrebbe veramente Fare una puntata Perché ad esempio Uno dei più grandi fan Dei Beatles Che li stalkerizzava Perché voleva che Lo prendessero a suonare Con loro Era Charles Manson Cioè lui era Ossessionato completamente Dai Beatles Cioè anzi Lui diceva di essere Anche più bravo di loro Quella è un'altra storia Comunque giusto per info Questo è il White Album È White È letteralmente White Quello che diceva anche lui Prima nel Forio Onda La sovraimpressione qua Faccio ASMR Con l'album Io ti ho chiesto Di far vedere il White Album Perché il White Album È stato scritto Pubblicato 40 giorni prima Che si iniziassero Le registrazioni Di Let It Be Questo per far capire La vena creativa Veramente Ai limiti Cioè adesso Gli artisti fanno album Ogni 4 5 A parte qualche pazzo Sì poi magari Quelli più Dei ragazzi pop I ragazzi trap Così che ti fanno L'album all'anno Perché devono vendere A volte O perché la casa E l'etichetta discografica Lo richiede Poi ci sono i Beatles Che potevano fare un po' Quel cavolo che volevano Ma nonostante ciò Avevano talmente Tanta vena creativa Da sfornare Perle del genere Una volta ogni 4 mesi No guarda ci sono Negli ultimi anni Ci sono stati Tra i miei artisti preferiti Che hanno sto vizio Nella completa follia Di fare 4-5 album All'anno Che io dico Fanne uno Che diventa La storia della musica No Perché vabbè Però sono pazzi Vabbè ci sono I Beatles Nella storia Erano solo uno Quindi erano solo loro Che riuscivano a fare No in quegli anni Sai che era una cosa Un po' tutti Se tu guardi anche Le zeppe Negli album Sono stati tutti Quindi c'era veramente Un moto creativo Incredibile E poi ti ho chiesto Di far vedere Quello del figurelli Qua davanti Esatto Perché appunto In quanto data storica Milano dei Beatles Eh sì Quindi valeva la pena Diciamo Chiudere così Eh sì Un riconnettersi Comunque Alla nostra città Che li ha accolti Tanto bene Che è stata forse In Italia La prima città A portare attraverso Alcuni artisti Sud di tutti Celentano Secondo me Il rock Nel nostro paese C'è il rock Fatto da Da noi italiani E Ma in ogni caso Secondo me I Beatles Trascendono Cioè definirli Come Il re del rock O Cioè Secondo me Hanno fatto un po' Tutti i generi E' proprio quello Io quello che penso A parte magari Alcune canzoni Dei primi tempi Che erano più legati Forse alle sonorità Degli anni 50 E Però Davvero Ci sono tante Delle canzoni Dei Beatles Che se fossero Uscite oggi Sarebbero comunque In cima alle classifiche E sarebbero Perché sono così Sono Tanto contemporanee Nelle sonorità Nelle parole Nei temi portati Credo davvero Che è proprio questo Che li rende unici Poi Loro stessi Si sono spesso Dichiarati Anche più grandi Di Gesù Cristo In persona Quindi Diciamo se la credevano Esatto Ed erano consapevoli Del loro successo Ma Nonostante ciò Secondo me Non sono mai risultati Spocchiosi O Magari in alcune situazioni Sì Però erano Talmente bravi Anche parlare Anche parlare Tanto di Paul Di George Del loro rapporto Io te l'ho detto Che avremmo avuto Talmente tante cose Di cui parlare Che non sarebbe bastato No Però abbiamo più o meno Snocciolato tutto Io lascio Facendovi vedere Questo bellissimo fumetto Libro Biografia Dei Beatles E del Pertini Questo No Allora Questo c'è anche al Pertini C'è anche qua al Pertini Questo l'ho trovato In occasione Tra le occasioni All'Ibraccio A 10 euro Io l'avevo già letto È bello Bellissimo Quindi se volete approfondire Il mondo dei Beatles Lo vendi Lo vendo Esatto A 5 euro Come Facci il margine Da 10 vai a 15 Scusa Sono una persona Troppo onesta Bravo Quindi se volete In maniera divertente Approfondire l'argomento Beatles Vi invito a prenderlo Anche in biblioteca Visto che è Visto che è in Esatto Visto che ce l'abbiamo Ed è molto ricca Quindi Quindi dai Andre Lasciamoci Che facciamo un'altra puntata Più Più che volentieri Intanto ti ringrazio Per avermi invitato oggi Chiedo scusa Logicamente se ho Preso spesso No veramente Andre Sto parlando Alice stai facendo No guarda Sto parlando col mio Assurdo Col boss qua Con Ale Si vede che tra te Alice c'è del feeling Parla 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 Sottormiente Dietro la console No io No davvero Non vedevo l'ora Spero Credo si sia capito E vi invito davvero Di andarvi a recuperare Tutta la loro musica Ascoltatevene un po' E sicuramente Con tutto quello che hanno fatto Troverete qualcosa Che vi farà Innamorare di loro E io soprattutto Lancio l'appello Fate come Andre Proponetevi Dite Ale Scrivete ad Alice Eccetera eccetera Scrivete a me Sul mio profilo Se avete idea Volete fare puntate Volete parlare di musica Di qualcosa in particolare Io sono aperto A ospitarvi qua E niente Con questo vi ringrazio Vi invito a seguire La playlist Che pubblichiamo Tutte le settimane Mettiamo nuova musica Che è uscita recentemente Quindi se volete Rimanere aggiornati Un po' sul mondo Della musica Più internazionale Che italiana Devo essere sincero Però Se è internazionale Tipo questa Va più che bene Esatto Se volete rimanere Insomma informati Seguite le nostre playlist Che è la nostra Canalice Posterà sotto Il video di oggi E pubblica anche Sui canali del Pertini Di Spotify Quindi cercatela E ascoltatevela E io vi aspetto Qua ospiti Futuri ospiti Spero Come ha fatto Andre E ringrazio Andre Ringrazio tutti voi Che ci avete seguito Ciao ragazzi Ciao